Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo, questo sarà il mio video sulla grande part del Tour de France 2022, ma in realtà questo è un video su Faute Fanart, perché su cos'altro avrei dovuto farlo se non sul vuttone. Un uomo capace di entusiasmare collezionando continuamente secondi posti, ma anche tante altre milestone e nel frattempo un sacco di vittorie. Un uomo che incarna alla perfezione la trasportazione più fedele possibile del ciclista cosiddetto di una volta nel ciclismo contemporaneo. Faute Fanart, un uomo buono per tutti i terreni, un uomo che dà tutto ogni singolo giorno di gara. E un uomo che balla perfettamente a metà fra quell'idea che abbiamo di grandissimo ciclista potente, prestante, che vince tutto, e quell'altra idea, quella è il ciclista sfortunato, del ciclista che non vince mai, anche se vince appunto, del ciclista che arriva sempre a un centimetro da ciò che vuole più di ogni altra cosa e che in qualche modo riesce a prendere sempre tutto ciò con una sportività eccezionale, perché in questi giorni sta dimostrando veramente che quella dello sportivo che sa perdere molto bene per lui non è un'etichetta basata sul luogo comune. Seguendo insieme la linea del tour di Van Aert avremo un piccolo simposio di tutto ciò che è successo in queste prime tre tappe, che hanno riservato un po' meno movimento di quello che speravamo particolarmente sul ponte del Great Belt Bridge, ma che comunque, come sa fare perfettamente il Tour de France, regalano sempre tantissime storie di cui parlare, tantissimi personaggi, fra cui ovviamente l'altro uomo a cui avevi potuto dedicare l'interezza di questo video, che non è Fabio Jakobsen, che non è Dylan Groovegen, che non è Yves Lampard, ma è Magnus. Kurt Nielsen. Magnus Kurt Nielsen, mi piace? Sì. Sta dominando in fuga? Chapeau. Ha il baffo più porno dell'universo? Chapeau. È più amato di Pedersen, Asgren e Ving e Gord messi insieme? Chapeau. Lo metto fra i più grandi scopatori ciclistici della storia? Sì. Parere mio personale? Sbaglierò? Amen. Per me è la qualità, la raffinatezza, ventola. Il Tour 22 è iniziato circa qua, con la concentrazione del vuttone tutto bagnato e dietro un Taddeo sostanzialmente addormentato dalla sua stessa esagerata e noiosissima dominanza. Pippo Ganna, Fot Fanart e Tadej Pogacar sono stati i tre assi che sono scesi tutti e tre insieme a distanza di un minuto nel momento clou della crono e forse di tutti questi primi tre giorni, perché c'è stato veramente un display di classe e di potenza a parte di tutti e tre, tutti con pochi uguali in mezzo alla pioggia danese, ma in particolare Van Aert è partito fortissimo. Tre secondi subito su Ganna, il campione del mondo ha staccato il miglior tempo battendo Van Der Poel, ma Van Aert arriva da dietro con l'occhio fisso sul cronometro e sul risultato. La stessa scena praticamente che abbiamo visto con Ganna al mondiale mentre sorpassava Van Aert è avvenuta stavolta a parti invertite. E con cinque secondi su un uomo che perde praticamente una crono ogni decennio, il vuttone si sentiva molto molto comodo sul trono di primo classificato parziale della crono. Fino a quando, come un fulmine a ciel sereno, ma in realtà come un raggio di sole in un cielo di Copenhagen che se era un pochino aperto nel frattempo, arriva la rubé legend Yves Lampard e gli fa tirar fuori questa faccia qua. Anvedio, questo me l'ha proprio messo in terra una faccia che è stata un instant meme per quella che è stata in realtà la vittoria più importante nettamente della carriera del mitico Yves Lampard, che peraltro vorrei far notare essere l'unico atleta specialized fra tutte le 74 squadre di atleti specialized ad essersi rifiutato di indossare il head sock. Il vostro nuovo passamontagna preferito? Io tuttora non ci credo. E questo è un commossissimo Yves Lampard che ci regala degli splendidi momenti e che però purtroppo per lui sta piangendo perché ha perso i 26 secondi in 40 km che ha guadagnato Rinco in allelamento grazie al head sock. Stai dicendo minchia, potevo dare un minuto a tutti. Andavo a vincere il tour. Il magico Yves, uno dei miei corridori preferiti, è stato il primo ad aggiudicarsi questa spettacolare medaglia fatta con paint della Continental. Credo che quei watt espressi in un giorno dai nomi di questa classifica ci illumini tutta la Danimarca per un anno. Il giorno dopo c'era il ponte, ma al di là delle splendide riprese, se ne siamo accorti, sportivamente parlando, solo quando durante questa caduta che ha coinvolto lo stesso sfortunatissimo Lampard, i corridori hanno letteralmente rischiato di cadere di sotto come io. Scherzavo che sarebbe potuto accadere agli scatori più leggeri su questo ponte, ma non mi aspettavo che succedesse davvero. State un po' attenti ragazzi, per favore. Ovviamente se c'è una cosa che tende a caratterizzare le prime tappe del tour, lo sappiamo benissimo, sono le cadute. Il gruppo è troppo folto, si va troppo forte. Appena una strada si restringe un pochino in un punto chiave della corsa, succede un macello. In quella tappa è successo più di una volta. La seconda caduta è venuta solo a due chilometri dall'arrivo, nella quale hanno rischiato un sacco di uomini di classifica. E una delle cose più interessanti della seconda settimana sarà vedere proprio se qualcuno di questi uomini avrà delle conseguenze. Non appena in gruppo si aprirà il gas alla prima salita importante. Gente come Dani Martinez, Ben O'Connor o Henrik Maas avranno a lente ingrandimento addosso. Alla fine è stata una volata classica, seppur a ranghi ridotti. Jasper Stuiven è riuscito a lanciare. Matt Pedersen è partito lunghissimo, perché sa di poter vincere praticamente solo così, contro degli sprinter più puri, con una punta di velocità più alta. È un po' il discorso che solitamente fa Van Aert, però ancora più in grande. Il vuttone gli ha preso a ruota, ma alla sua ruota c'era come uno squalo Fabio Jakobsen. Creeping in the background, pronto a produrre i 50 metri di ciclismo più strada più potenti e veloci del mondo. E sostanzialmente, anche se il vuttone esce benissimo dalla ruota di Mazzi, in questa situazione lui è Michael Schumacher. Pedersen è Zonta e Fabio Jakobsen è Mika Akkinen, che sta andando a vincere la tappa di Spa Niborg 2000, e secondo giorno, secondo meme, il vuttone si gira, vede Jakobsen troneggiare, alzarsi sui pedali, con tutta proprio la potenza di un titano di fianco a lui. Lo guarda a libito e dice Fuck! Oppure non so quale altra parola con la F. Farfalla? Fabio ti voglio bene? Fight Club è il miglior film degli ultimi 50 anni? For For Alpesin? Faut Fanart? Fagnus Court Nielsen? O forse farei di tutto pur di non arrivare ancora a secondo. Super Fabio Jakobsen finalmente può vincere una tappa al Tour de France e si becca il medaglione di Paint. Zero su due per il vuttone, che però nel frattempo ha una consolazione ovviamente gigantesca. La sua prima maglia gialla, e devo dire che come la porta lui, non la porta nessuno. La classe di Clark Gable. Non so se succede anche ad altri, ma proprio a guardare il vuttone, a livello meramente di immagine, mi ricorda tantissimo le effigi dei ciclisti del passato. Molto rigato, involto e per niente costruito. Tappa tre. Mentre Magnus Court sprinta contro nessuno e va a vincere tipo una monumento. Ah no, era un GPM di quarta categoria. Idoli tutti quanti. Lui, i danesi, lui di nuovo, tutti. Magnus Court Nielsen Inception. Ciao Magnus, ciao, ciao, sei bello. Non vediamo l'ora di rivederti. Alla terza tappa, indovina un po', oltre a Magnus Court che da spettacolo, non è successo assolutamente nulla fino a questa maxi caduta ai 10 chilometri dalla fine. L'avevate già sentito da qualche parte, forse. Caro Tour de France. Caro super mega prestigioso e ambitissimo Tour de France. Sempre così, eh. Fermi dopo questa caduta, vedete, praticamente tutta la Barenni, infatti, è il frangente che farà perdere importante tempo in classifica sia da Miano Caruso che a Jack Haig. A voi l'arduo compito di battezzare fra tutti questi chi volete prendere in fuga al fantasiclismo la prossima settimana. Il Vuttone nel frattempo ai 61 all'ora rischia di sfaccellarsi contro un ostacolo e fa un numero da funambolo. Classic Vuttone. Insomma, anche qua si arriva a una volata classica che più classica non si può. Anche qua è molto nervosa e il gruppo è lievamente ridotto dalla caduta precedente. Stavolta c'è una curva molto importante a 800 metri dalla fine. Vediamo Florian Seneschal in maglia di campione francese che l'ha imposta per primo Michael Morkov il miglior lead-out al mondo sulla sua ruota che si scarrozza in maglia verde Fabio Jacobsen. Qui sulla destra però che sta contendendo a Morkov l'ingresso molto importante in questa curva c'è Alexander Christophe. Mentre questo è Christophe Laporte alla sua sinistra c'è Peter Sagan e alla sua ruota Fout van Aert in maglia gialla. In curva però Jacobsen si trova Christophe alla propria destra è costretto a frenare altrimenti gli sarebbe andato addosso e pochi metri dopo è qua dietro nel giro di 50 metri ha perso 5-6 posizioni assolutamente cruciali per sperare di far bene in una vasca di squali come è la volata di un Tour de France. Ovviamente ha perso anche tantissima velocità e allora le sue chance sono praticamente infinitesimali in questo momento quando Morkov ignaro lanciato da Seneschal sta partendo per proporre il proprio lead-out. Ma quando si gira non vede verde vede giallo ci sono la porte Van Aert sulla sua ruota e allora dice io qua non ci sto a far nulla. Allora Morkov molla si sposta al centro della carreggiata mentre si fa riassorbire a tutti gli altri ma la porte il lead-out di Van Aert è sorpreso da questa cosa lo deve circumnavigare così come abbiamo visto far prima Jacobsen. Ma Fout ormai ha perso la sua ruota e allora decide di lanciare direttamente lo sprint essendo rimasto al vento alla sua di ruota però ci sono tutti gli altri c'è il re di vivo Peter Sagan c'è Dylan Grunewagen e c'è anche Caleb Iwan con ancora più dietro Fabio Jacobsen da quest'altra parte invece hanno preso la trattoria sbagliata insieme alla porta Jasper Philipsen e Mads Pedersen Van Aert come il giorno prima a 100 metri dalla fine sulla propria progressione si trova al primo posto ed è in questo momento però che nasce il giallo che da ieri tiene banco in giro perché Van Aert si sposta lievemente sulla destra seguendo quella che è la linea della strada lo possiamo vedere dalle linee continue disegnate sulla strada prima lui c'era praticamente attaccato dopo esattamente a metà fra i segnali stradali e la transenna mentre Sagan che stava tenendo la sua linea e cercando di sorpassarlo è costretto a tirargli una spallata per non cadere mentre Iwan dietro si è già fermato e li sta mandando già tutti a quel paese Gronewegel nel frattempo dopo aver preso la scia di Fout trova la linea perfetta invece alla sua sinistra Jakobsen è troppo indietro per essere un fattore e sulla linea d'arrivo è uno sprint a 4 che al photo finish purtroppo per Fout non lascia dubbi è una vittoria per Dylan Gronewegen ed è una vittoria veramente di pochissimo e allora il Dylanone stavolta a vedersi disegnato addosso questa splendida medaglia Van Aert non ci riesce neanche stavolta 0 su 3 con questi 3 secondi posti consecutivi nelle prime 3 tappe del tour arriva a quota 9 stagionali a fronte ai 5 vittorie ma la realtà punto numero 1 è che nessuno ha caratterizzato questa corsa come Van Aert finora e punto numero 2 è che nonostante tutto lui continua a saper perdere meglio di chiunque altro sicuramente meglio di Sagan che pur simpaticamente se l'è platealmente presa con lui per averlo stretto sulle transenne fatemi sapere nei commenti cosa pensate che avrebbe dovuto fare la giuria perché effettivamente un pochino la traiettoria del vuttone l'abbiamo visto che è atteso verso le transenne e allora il peterone gli ha detto birbante malandrino perdincibacco sei solo lievemente più simpatico della mia ex suocera nel frattempo Dylan Grunewagen chiudeva un cerchio lungo 696 giorni il giorno prima Fabio il giorno dopo Dylan a livello emozionale sono state sicuramente loro le storie di questa grande par il vuttone però può fluttuare nella sua divisa zalla in questa grafica insieme a Pogaccia e alla Filippe nettamente il ciclista che ha più rappresentato ciò che significa il Tour de France nel mondo negli ultimi anni mentre alle mie spalle ci sono dei tuoni terrificanti sono le svattate del vuttone spero che non mi si spenga tutto ma caro vuttone sei proprio una bestia rara sei stato il raggio di sole di queste prime tre giornate di tour un pochino ora vado a farmi un bel bicchiere in tuo onore ma prima devo montare il video un attimo calma e devo dire che l'amaro i birra ti rappresenta molto perché sei un po' malinconico ma alla fine con te è sempre tutta una grande festa perché chi se ne frega dei secondi posti lo vogliamo dire ogni tanto che è quello in cui credo veramente fanni altre mille i secondi posti se devi continuare ad essere così e a riempire le nostre giornate noi ci vediamo con tutto il materiale della seconda settimana che non è una vera seconda settimana non so mai come dire le tappe che vanno dalla 4 alla 9 come sempre da seguire insieme su twitch qua con il digestivo o negli highlights di gc in italia se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale attiva le notifiche perché tiro fuori un video più o meno quando mi capita ma quando lo tiro fuori ci vediamo in prossimi video ciao